Anche quest'anno a Montorio si festeggia l'antico rito del Carnevale Morto. Si tratta di un'antica tradizione unica nel suo genere, nel panorama regionale e nazionale, che richiama ogni anno tantissimi visitatori. Per questo la Proloco di Montorio si è fortemente impegnata a garantire lo svolgimento dell'evento, nonostante i grandi problemi di spopolamento causati dal terremoto. Torna il Carnevale, sì, con grandi difficoltà imposte anche dai decreti di sicurezza dopo i fatti di Torino. Ma ce l'abbiamo messa tutta, anche grazie agli uffici comunali e al Corpo di Polizia Municipale che si sono prodigati per far sì che questa manifestazione si svolgesse anche quest'anno con tutte le norme di sicurezza rispettando la legge, chiaramente. La morte del Carnevale si celebra dunque il 14 febbraio, con appuntamento alle ore 20 in via dei Mulini a Montorio, dove si dispiega il corteo funebre, tutt'altro che mesto, per arrivare in Piazza Orsini per la celebrazione delle sequie, ad interpretare il Carnevale morto e, come sempre, un personaggio storico del paese. Mercoledì sera, mercoledì 14, a partire dalle ore 20, ci sarà la processione del Carnevale morto, che è la processione, la festa che ci ha fatto conoscere a livello nazionale. Negli ultimi 15 anni l'abbiamo promossa a tutti i livelli, abbiamo trovato un riscontro veramente positivo, perché è un unicum a livello nazionale, lo ricordiamo sempre, non si svolge, non si fa da nessun'altra parte come si fa a Montorio. Ad accompagnare il feretro, come ogni anno, è la banda Città di Montorio, in un'alternanza di marce funebri e brani di irriverente allegria. Al termine del percorso, il Carnevale morto resuscita tra applausi, balli, castagnole e vimbrulè per tutti. Invito tutti coloro che non l'hanno mai vista a venire mercoledì sera, dalle ore 20, in via dei Mulini e poi per le vie del Centro Storico fino a Piazza Orsini, dove concluderemo poi la fine con vimbrulè e castagnole offerte come tradizione dall'organizzazione.